Quando a Natale ti fanno sempre lo stesso regalo. Cosa dici? Amo! Allora Amo! Come regalo? Non aspetterai mangiare. No! 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 E' quella degli? Uhuh! Assapi l'anno passate! Ehi, l'anno passate, l'anno passate! Mi piace Amo! E' stato massimo! E' stato grande! Grazie Amo! Cosa vorresti dire? Amo! Ci hai fatto un bello regalo per Natale! Amo! Amo! E' una cosa un po' mi piace! No! Mi piace? Amo! Questi l'anno passate! No! Ma quando mai? Che direi? Sì Amo! E' una cosa buona! Questa cuscita è di ruppi! Eh? Stai senti più di ruppi? No! Quanto sta? Eh! Ma queste l'anno passate? Eh ma no! Cuscita è di ruppi! Stai senti più di ruppi! Quanto sta? O che? Eh! Stai a 3 euro! Ah! Stai a 3 euro! Sì! Vedi come è bello! E' buona! E' buona! E' buona! E' buona! E' buona! Sì eh! Sì! Sì! Fai respiro! E' buona! E' buona cosa che hanno messo la cima!